Avvocato Peluso, dobbiamo dire che oggi è una giornata bella e c'è una buona notizia. La biglietteria della stazione di Crotone è riaperta. Sì, qualcosa finalmente si muove. Un qualcosa dove noi in qualche modo ci tenevamo particolarmente. Abbiamo iniziato già nel 2021 a seguito di un incontro in commissione trasporti presso il comune di Crotone dove in qualche modo avevamo messo in evidenza l'anomalia del fatto che Trenitalia non rispettasse un contratto di servizio che era stato stipulato con la Regione Calabria e che prevedeva proprio l'apertura della biglietteria di Crotone. Abbiamo fatto tutta una serie di iniziative tra cui anche un sit-in di protesta di fronte alla stazione ferroviaria nel piazzale in distante della stazione proprio per sollecitare la Regione a intervenire sempre nel 2021. In ritardo, ma per fortuna ci siamo riusciti ed è il primo passo per in qualche modo risollevare quelle che sono le sorti della situazione ferroviaria crotonese. Oggi finalmente riaprirà la biglietteria dalla comunicazione che abbiamo avuto da Trenitalia e da qua poi si inizierà con un percorso che riguarderà anche la questione relativa all'elettrificazione e allo sviluppo di questo territorio che non può non prescindere dallo sviluppo del sistema trasporti. Infatti, anche perché dobbiamo dire, visto qual è la situazione delle nostre strade, la ferrovia è un optional importante per chi si deve spostare, penso ai pendolari. È fondamentale. Noi ci tenevamo tantissimo a lanciare questo segnale della biglietteria perché l'apertura della biglietteria in qualche modo avrebbe mostrato un interessamento nei confronti della stazione ferroviaria di Crotone perché tutti noi abbiamo potuto constatare lo stato di abbandono della stazione ferroviaria e la biglietteria in qualche modo, oltre a fornire una serie di servizi, è anche un presidio in qualche modo di legalità e di controllo della stazione ferroviaria. Voi siete pronti ad avere degli incontri con Trenitalia per risolvere anche gli altri problemi che riguardano la stazione e la ferrovia crotonese? Il motivo degli incontri che c'era stato in Commissione Trasporti, oltre a riguardare la questione della biglietteria, era anche quella relativa all'elettrificazione perché c'è un blocco nel completamento di quello che è l'elettrificazione e il collegamento con Sibari, dovuto alla questione della Galleria di Cutro. Noi su quello in qualche modo avevamo sollecitato Trenitalia e il governo regionale deve intervenire perché, seppur vero che nella Galleria di Cutro c'è un problema, nulla impedisce il completamento dell'elettrificazione da crotone a Sibari, in modo da collegarci direttamente con l'alta velocità.